Ciao ragazzi, siamo Save the Grubin People. Ora vedremo come rendere agghiacciante il vostro e il nostro album. Eccolo corretto. La Glusol. Le forbici. L'amido naturale. Oh, fanti da... Color verde. Acqua santa di giornale. Sì, ma per fare cosa? L'olio slime! Mettiamo due cucchiaini di Funky Dal, l'amido, in mezzo al bicchiere di acqua santa di giornata. E poi mescoliamo in senso anti-orario. Dopo aver messo a riposare il nostro Funky Dal, prendiamo un altro bicchiere e ci mettiamo la nostra colla Glusol. esprimiamo tutto il tubetto dentro. Allora, adesso versiamo un po' d'acqua santa di giornata in questa fantastica colla. e poi qualche boccia di colore verde. Mescoliamo il tutto rischiamo il nostro amido nella colla. Tiriamo, giriamo, giriamo e magicamente ecco il nostro slime! E adesso potete fare scherzi come questo, eh? ci vediamo domani! Ci vediamo domani! Ci vediamo domani domani, ci vediamo il 31! E poi qualcuno dice, no, ci vediamo il 31! E poi qualcun altro dice, no, ci vediamo il 31! Che domani! E poi qualcun altro dice, no, ci vediamo il 31! Raga, mangiate! Dai! E stop! Oh, ma ci sta lo smeldino là per te, no? L'ho preso con l'occhio! Lo smeldino! Ma questo è il di Sephora! Hai visto? Il di Sephora, guarda che ti regalo! Uno! Eh no, dai! Mangatelo! Dammi il metà! Ci vediamo domani! Ma no domani, il 31! Oh, ma Giavrus? Ma Giavrus? Ma Giavrus? No, Giavrus! Ma dove? Ma Giavrus? Ma dove? Giavrus! No! Mamma! Mettiamo due cucchiaini di Fanchi dal lamido! Mettiamo due cucchiaini di Fanchi dal lamido! Mi abbracciano le cucchiaini di Fanchi dal lamido! 不ce va vero? D'Ul! Mettiamoningar! E... Da-Danz! Da-Danz! Passante sì! P pendant di giornata! Oh! E-A-A Ho ho visto del vélo! � Eh, per la mia pirata se l'hai catt battling. Ecco! Beh, va bene da- Ma già no, è...